Vai, vai! Ciao, se staveste cosa stiamo per fare, ma non ve lo possiamo dire, non ve lo possiamo dire, è un segreto. E tu cosa dici? Produttore? No, nulla, non dice nulla il nostro produttore. Sono al buio. Silenzio, no, sei in luce. Capocce? E tu sei qui pronto per immortalare tutti noi? Per forza. Oh mamma mia, che emozione. Vai, vai, saluta tutti. Ciao! Vi aspetto presto.